Come altri ringrazio Domenico Lano, lo ringrazio in modo particolare perché sono convintissimo che incontri, seminari di questo tipo facciano del bene, fanno del bene perché trovare un argomento comune e affrontarlo da più punti di vista, quindi dal punto di vista del musicista, del regista, del teatrante, dello studioso di storia, dello studioso di altre discipline, insomma secondo me apre la mente a tutti e nella nostra città in particolare noi abbiamo bisogno di queste cose, quindi grazie, continua, mi raccomando. Due piccolissime parole prima di farvi vedere questo estratto da un film su Alta Merini. Intanto io ho avuto la fortuna di incontrarlo esattamente dieci anni fa. La storia di questo film è questa. Paolo Taggi nel 1993, quando Alta Merini era all'inizio della sua attività e soprattutto all'inizio del suo successo, è andato a casa sua e ha fatto un'intervista per quella che allora era a Tele Monte Carlo. Questa intervista ha girato su Tele Monte Carlo e su altre emittenti private e poi nel 2005, ragionando insieme su quello che era successo ad Alta Merini, abbiamo pensato di andare di nuovo a casa sua, portare il monitor, portare il VHS filmato di allora e farglielo rivedere e quindi registrare le sue impressioni 12 anni dopo, su quello che lei aveva detto 12 anni prima. È stata un'esperienza direi abbastanza interessante, vuoi perché la casa di Alta è una casa assolutamente affascinante, di cui peraltro poi parlerà lei stessa nel video, vuoi perché Alta Merini è un personaggio molto importante. Considerate che in questi 12 anni, forse aiutata anche da una serie di apparizioni televisive al Maurizio Costanzo Show, Alta Merini era diventata un canto dal punto di vista della poesia e del personaggio pubblico in Italia. Aveva superato il male, nel senso che io ho parlato per un giorno intero, io sono stato contento di averlo fatto con lei e non si poteva pensare che era una persona che era stata all'interno del manicomio per tanti anni, parlando di lei anche di tutta una serie di cose che poi con Domenico abbiamo ritrovato andando a lavorare sulle immagini dei vecchi manicomio. Allora, una domanda che mi sono fatto è questa, ma era lei che non era matta, scusate se uso questo termine, oppure le cure che le avevano fatto sono state così efficaci da prendere una persona squisita con cui parlare. Non lo so e non mi so, devo dire, dare delle risposte, sta di fatto che con questa persona io e Paolo Taggi per un giorno sui navigli, in un posto assolutamente romantico, abbiamo parlato di tutto, dalle camicie che mia suocera mi stirava molto bene secondo lei, alla poesia, al futuro dell'Italia e di tantissime altre cose. Bene, vi faccio vedere il filmato con una piccolissima precisazione. Renzo Frivelli stamattina parlava dell'imperfezione del male e una delle domande che si faceva durante il suo intervento, peraltro bellissimo, era come separare il bene dal male. Io non ho delle risposte, ma qualcosina secondo me Alda Merini all'interno delle sue parole ci dice.